il pallone non devono ammoggiarsi vai rica ma io ho proprio fatto eh fai così cazzo me ne sei vedete il giro qua eh ma non è così ma dai prima salta e poi con mano ah vabbè vabbè ma dai ma dai prima salta e poi con mano vabbè 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 остановi riconoscere vabbè 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 v va vabbè 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 vabè Grazie.